il rosario con i morti padre luigi si chi era questo pompilio che recitava il rosario con i morti ho preso la decisione quella di farmi religioso delle scuole fine hai un desiderio per il nuovo nome? vorrei chiamarmi pompilio battele satana battele in nome del padre e del figlio e dello spirito santo penso a questo punto dopo 11 anni di permanenza in queste terre d'abruzzo debba partire per evitare guai maggiori all'ordine ieri sera siete rientrato senza mantello mi ne ho procurato uno io che ho preso dal guardarobbo di un nostro confratello mi aspettavo sto momento da tempo padre pompilio aiutami padre paura di morire l'eternità è spaventosa ma non ci spaventi non ci spaventi si